Redmi 3 Pro. Dopo solo pochi mesi dalla presentazione e dal lancio di Redmi 3, Xiaomi mette sul mercato una variante Pro di questo smartphone che mantiene il design del modello standard ma migliora nelle prestazioni. Un telefono per tutti? Assolutamente no. Un best buy per utenti consapevoli? Assolutamente sì. Scopriamolo insieme nella nostra recensione. Xiaomi Redmi 3 Pro è uno smartphone a cui non manca davvero nulla, a partire da un bel design e dall'impiego di materiali di qualità. Il telefono è infatti realizzato completamente in metallo e riprende in tutto e per tutto il design di Redmi 3, molto simile a sua volta a quello di Mi 4S. Sulla parte frontale del telefono troviamo lo schermo, un pannello da 5 pollici in risoluzione HD che offre un'ottima luminosità, buoni contrasti e un'ottima visibilità alla luce del sole. La buona ottimizzazione delle cornici rende inoltre molto comoda l'interazione con il dispositivo utilizzando una sola mano e qualora proprio servisse potete sempre attivare la modalità specifica per l'utilizzo del telefono con una sola mano. Sopra lo schermo troviamo la fotocamera anteriore da 5 pollici con apertura f2.2, il sensore di prossimità e quello per la regolazione della luminosità che è piuttosto pigro. In basso troviamo tre tasti a sfioramento rispettivamente multitasking, home e indietro. In basso sulla cornice troviamo unicamente il microfono principale e il connettore micro USB per la ricarica. Sulla destra troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione, mentre sulla sinistra troviamo unicamente il carrellino per la doppia sim o in alternativa per una sim e per l'espansione della memoria interna. In alto sono posizionati il connettore jack e il sensore di infrarossi, mentre sul retro del telefono troviamo invece lo speaker di buona qualità ma che inevitabilmente capiterà di coprire e la fotocamera principale da 13 megapixel accompagnata da un LED flash a singolo tono. Sul Redmi 3 in versione Pro scompare anche la discutibile trama che avevamo invece sul modello standard in favore di una scocca più semplice e più pulita. In mano il telefono risulta davvero molto leggero, ben bilanciato e piuttosto comodo da utilizzare. Sotto la scocca di Redmi 3 Pro troviamo un processore Snapdragon 616, un octa-core accompagnato da una GPU Adreno 405 e da ben 3 GB di RAM LPDDR3. Con questa dotazione hardware e grazie anche ad uno schermo non troppo definito ma comunque più che sufficiente nell'uso quotidiano, il telefono regala delle performance davvero molto convincenti. Nel tutto assenti sono infatti i rallentamenti lag, anche se qualche blocco ogni tanto può capitare. Tuttavia il telefono si è sempre dimostrato all'altezza delle aspettative, utilizzando anche più app contemporaneamente e avviando giochi pesanti il telefono se l'è cavata davvero bene senza mostrare segni di cedimento e senza scaldare eccessivamente. A livello di memoria su Redmi 3 Pro abbiamo 32 GB di partenza che possiamo espandere fino a 128 GB utilizzando una microSD. Su Redmi 3 Pro arriva anche un sensore per le impronte digitali posto sul retro del telefono e che era assente sul Redmi 3. Il sensore risulta piuttosto preciso sia nel riconoscimento dell'impronta che nella scansione della stessa, anche se la velocità di sblocco, pur essendo buona, non è di sicuro tra le migliori del settore. Parlando dell'aspetto telefonico, è buona la ricezione e anche l'audio in capsule, a meno in viva voce, anche se purtroppo manca la banda degli 800 MHz. A livello software il Redmi Pro monta Android Lollipo, personalizzato dall'interfaccia MIUI di Xiaomi in versione 7.2. Xiaomi ha da poco annunciato anche la MIUI 8 e probabilmente la vedremo presto anche su questo smartphone. Tuttavia il software è già stabile e ricco di funzionalità al momento, anche se per ora manca una ROM internazionale che includa la lingua italiana e le uniche lingue disponibili sono infatti il cinese e l'inglese. Inoltre, come da tradizione, di Xiaomi sono del tutto assenti in partenza le Google Apps, Play Store incluso, che andrà installato manualmente dall'utente insieme alle altre applicazioni di Google. Presenti invece i temi tramite uno store dedicato e ottime anche le personalizzazioni offerte dal launcher di default. Parlando della fotocamera, quella posteriore è da 13 megapixel e ci ha stupito con un livello di dettaglio sopra la media del settore e con degli sfocati davvero molto buoni realizzati grazie all'apertura pari ad f2.0. In notturna la situazione peggiora leggermente ma dobbiamo ricordarci che si tratta di un medio di gamma venduto ad un prezzo da entry level e comunque il telefono riuscirà a realizzare scatti più che soddisfacenti. Discreti invece sono i video che anche se in full HD non riescono a risultare convincenti soprattutto per la mancanza di messa a fuoco automatica continua, per uno stabilizzatore che praticamente è assente e per un livello di dettaglio non all'altezza delle aspettative. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel invece e ha un'apertura pari ad f2.2 e consente di scattare selfie davvero molto buoni in qualsiasi situazione. Questa è una prova di registrazione video e audio da Xiaomi Redmi 3 Pro. Purtroppo manca la messa a fuoco automatica nei video, in sostanza se voglio mettere a fuoco su un particolare, ora ho toccato a mano quel particolare. Vedete se mi sposto la messa a fuoco non cambia in automatico quindi devo cambiarla manualmente. Questa invece è una prova di registrazione sempre da Xiaomi Redmi 3 Pro con la fotocamera anteriore che devo dire rende davvero benino, mentre quella posteriore lato video mi ha un po' deluso, questa anche lato video se la cava. Ma uno degli aspetti più interessanti di Redmi 3 Pro è proprio la batteria, una batteria da 4100 mAh che sono davvero tanti per un dispositivo così compatto ma che è soprattutto ben ottimizzata. Non mancano infatti dei profili di utilizzo che consentono di bilanciare consumi e prestazioni del telefono per trarre il meglio da questa già ottima batteria che infatti nell'utilizzo quotidiano ci ha portato abbondantemente a fine giornata consentendoci addirittura di iniziare e chiudere una mezza giornata aggiuntiva di autonomia. Insomma una durata veramente eccellente. Il nostro Redmi 3 Pro ci è stato fornito da Fast Card Tech ed è arrivato in perfetto stato dalla Cina in soli 5 giorni. Anche il prezzo proposto dallo shop è molto intrigante, si parla infatti di soli 155 dollari al momento della registrazione di questa recensione, è un prezzo scontato ma il prezzo di listino non è molto distante. A livello di colorazione il telefono è disponibile nella versione oro, quella da noi provata, argento e grigio. Tirando le somme il Redmi 3 Pro è veramente uno dei best buy del momento, basta pochissimo infatti per portarselo a casa e lui non vi deluderà, anzi vi sorprenderà. Come farà a sorprendervi? Beh intanto con una dotazione tecnica che offre un'esperienza di utilizzo concreta e convincente, con un design piacevole e leggero, con una fotocamera al di sopra della media del settore e con una batteria davvero eccellente. Cosa chiedere di più? Beh una ROM internazionale e magari una MIUI 8 quanto prima, nulla di infattibile insomma.